Aeroporto d'Abruzzo, numeri e cantieri. Dopo un 2023 molto positivo, chiuso con il record di oltre 870.000 viaggiatori, in aumento rispetto al 2022 di quasi il 22%, secondo i dati dei primi sei mesi, gli ultimi disponibili in attesa di quelli del terzo trimestre, lo scalo abruzzese ha perso oltre 27.000 passeggeri. A certificarlo è asse aeroporti. L'ultimo riferimento è quello di giugno, con un calo del 6% pari ad oltre 5.000 passeggeri in meno. Un trend negativo, in realtà partito a novembre 2023, quando si era perso l'8,4% dei passeggeri, proseguito con il 7,3% a dicembre. Unico segno più si è registrato a marzo 2024, complice la Pasqua, quando l'aumento è stato di 1.324 utenti. Un dato che stride ancora di più si è raffrontato con quanto accaduto negli altri aeroporti italiani, che hanno registrato un trend positivo del 10,8% in più. Tanto per fare un esempio, il vicino scalo di Ancona ha addirittura sfiorato un incremento del 15%. I dati di luglio e agosto, come detto, si conosceranno più avanti. Forse ci sarà un recupero, ma sperare di avvicinare quota a un milione di passeggeri, come si era ipotizzato, è pura utopia. Riguardo i cantieri aperti, cioè l'allungamento della pista di quasi 400 metri per una maggiore sicurezza dello scalo e per lo sviluppo dei voli intercontinentali, la questione è delicata e complessa perché coinvolge vari fronti, dagli espropri dei terreni, alla bonifica degli ordini bellici, fino all'analisi e al rinforzo dei terreni. Il resto, cioè la posa dell'asfalto per realizzare la nuova pista, dura meno di due settimane. Rispetto al cronoprogramma c'è stato un rallentamento. Al momento i lavori sono fermi anche perché si vuole evitare il rischio di annullare anche un solo volo nel periodo clou della stagione. C'è infine la questione della saga, il cui management è in scadenza. È probabile, ma non certo, che l'attuale presidente Vittorio Catone venga sostituito. La decisione verrà comunque presa dall'Assemblea dei Soci che si terrà entro metà ottobre.